è più facile di quello che credi specialmente su Instagram ogni giorno posto frasi, meditazioni, video, riflessioni insomma un sacco di materiale ad uso e consumo per la comprensione della legge di attrazione del tuo potere innato e co-creatore o co-creatrice e dell'universo soprattutto, dell'universo è attivo anche un servizio di consulenza e di coaching privato e mirato perché in questi video ragazzi io vado in maniera generale cioè spiego concetti in maniera generale poi ognuno di voi ha le proprie storie, le proprie vicissitudini e circostanze e soprattutto ha i propri blocchi che devono essere per forza di cose devono essere analizzati e rimossi in maniera ammirata e personale cioè ognuno ha la propria vita ragazzi ha la propria vita e i propri bisogni e per questo c'è il servizio di consulenza che praticamente ti mette sulla strada giusta per la manifestazione la strada giusta è veloce per la manifestazione di tutto quello che desiderate persona, cosa, circostanza cioè tutto quello che desiderate è anche un prezzo speciale, piccolino, per un breve periodo e decidete voi l'hanno già utilizzato con successo fanno parte del Team Koala le storie di successo che trovate su Instagram che trovate su Instagram le metto tutte nelle vecchie cose ci sono vari raccoglitori di piccole cose di storie del Team Koala e niente anche questo trovate nel box informazioni trovate i link di riferimento e andiamo avanti con i video di oggi che è? che è? sarà? allora oggi rispondiamo alla domanda che mi avete fatto cioè ci sono delle settimane che mi arrivano tutte le stesse domande cioè deve essere tipo l'universo che mi condensa quelli tutti di voi che hanno lo stesso problema allora la domanda è questa è una cosa chiesta per parecchio tempo anch'io quindi per parecchio tempo ho cercato la risposta e non riuscivo a trovare più non riuscivo a trovare più mi incazzavo finché praticamente ho detto vabbè universo facciamo che attendo quando tu ti decidi a darmela io rimango aperta a riceverla e la domanda è non riesco a capire perché alcune volte sto lì e mi aspetto per il peggio e invece va tutto bene oppure sto lì so sicurissima o sicurissimo che va tutto bene e invece poi no questa è una cosa che succedeva spesso non riuscivo a capire come mai soprattutto all'inizio quando cominciavo la legge attrazione e come mai stavo lì a credere nel super positivo nel super positivo e poi invece bam non succedeva niente o andava proprio diverso da come desideravo mentre nelle volte che dicevo no non succedeva non accade no e poi invece ragolo oddio è successo cioè non riuscivo a capire questo sembrava veramente che più pensavo negativo più che cosa succedeva non invece positivo e più pensavo positivo e più che cosa succedeva non negativo cioè era quasi una presa per il culo ho detto cioè che non riesco a capire eppure l'universo mi dice che la legge attrazione funziona in questo modo funziona col credo positivo e quindi è perché a me allora se chi è in ascolto appunto vi succede questa storia è perché dentro di voi dentro di voi ci devono essere assolutamente un credo se non più credo che vi portano appunto credere credo a questo allora io vi riporto il mio esempio vi riporto così potete capire la mia questione derivava da quando ero piccola quando ero piccola nonostante io mi impegnassi e quindi credevo di comportarmi bene di fare bene insomma di ero nel credo positivo ovviamente non conoscevo la legge attrazione però ero convinta di fare bene le cose venivo lo stesso sgridata perché avevo un rapporto ho avuto soprattutto un rapporto con i miei genitori specialmente mia madre estremamente conflittuale cioè non gli piacevo per niente ma può per nulla cioè quindi qualsiasi cosa facessi veniva sempre bollato come non va bene quindi sono crescita con il credo di cui non me ne accorgevo era un credo radice profondo antico con il credo che nonostante mi impegnavo nonostante credevo di aver fatto bene quella cosa e se mi comportavo una brava bimbetta di aver fatto tutto quello che insomma loro desideravano non aveva non aveva il risultato sarebbe stato sempre del no non va bene no non vai bene non in questo non in quell'altro cioè sempre quindi negativo nonostante io credevo da piccola di aver fatto qualcosa di positivo era sempre negativo qualsiasi cosa fosse ad esempio ci fu un concorso un concorso dove praticamente io sono sempre stata a disegnare però veniva vista come una cosa inutile dalla mia famiglia cioè troppo creativa cioè smolla e c'era questo concorso e in cui veramente facevi il disegno e poi vincevi non mi ricordo che cosa mi pare una cassa di prodotti erano dei cosi dei sciroppi erano una cassa di sciroppi per fare le granite insomma roba genere io partecipai a questo concorso ero sicurissima di vincere perché insomma sapevo che sapevo disegnare bene sapevo disegnare ero piccolina non mi ricordo quanti cavoli anni c'era avuto otto anni così roba genere ero sicurissima che insomma aveva vinto mi scrivo cioè mi iscrivono al concorso mi faccio iscriver al concorso ero sicuro che aveva vinto mentre però ero lì a fare il concorso mi guardo intorno e comincio a pensare ora sono tutte cose frenare che per lì io non le ho capite dopo le ho rianalizzate nelle mie meditazioni adesso che sono adulta e ho 40 anni mi metto a guardare intorno a dire e a guardare altri bimbi presi a disegnare e praticamente cominciano a salirmi i dubbi e dire che erano poi stati messi dalla mia famiglia che sono incapace comunque sia non vado bene in questo e questo insomma tutta questa roba negativa ma alla favola non ho vinto il concorso inoltre quando tornai dai miei mi dissero ah guarda che disegno beh che volevi vincere ma a te pare non sei riuscita a vincere cioè quindi mi affossarono di più dunque che cosa è successo nel corso degli anni questi piccoli ve l'ho raccontato uno ma non ne sono successi a centinaia di questi eventi così simili facevi una cosa e tu pensavi ma te veniva smontata quindi sono cresciuta con il credo con il credo del tanto faccio faccio metoda fa metoda fa penso positivo penso positivo ma tanto tengo il negativo quindi quello è un credo radice che è rimasto in me di cui io non me ne sono mai accorta e che mi sono trascinata nel corso degli anni nel corso dei decenni ecco perché quando ho cominciato a applicare la legge attrazione quindi a cercare di entrare in uno strato vibratorio non riuscivo positivo scusate in uno strato vibratorio positivo non riuscivo a capire perché non si manifestasse o meglio si manifestava la questione negativa per il semplice fatto che io avevo questo credo avevo e invece quando ero nella questione di tanto non accade cosa succedeva quando io mi mettevo nella questione tanto non accade tanto succede tanto bra 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 mi mettevo nella questione a dire siccome appunto affermavo che non sarebbe accaduto non li mettevo sopra cioè li mettevo sopra il negativo però dentro di me ormai si era formato il credo che se non ci sto troppo a credere poi accade capite quello che vi sto dicendo sono cioè sono delle cose dei concetti un po' zigovolati un po' complicati un po' però capite che vi sto dicendo sicuramente dentro di voi se meditate se ci riflettete cioè a un certo punto arriverà la risposta ci devono essere dei meccanismi che vi portano a credere che se sto a credere c'è troppo positivo non accade perché deve essere successo qualcosa nella vostra vita passata un altro credo che avevo era che più un ragazzo gli piacevo meno mi chiedeva di uscire questo perché era successo 15 anni prima non mi ricordo la questione che c'era un ragazzo che mi veniva dietro sicurissima che stava per chiedermi per uscire e invece poi l'avevo incontrato con un'altra ma era palese tant'è che anche le mie colleghe erano tipo o questo sta per chiedere per uscire o cioè questo sta proprio sotto per te così quindi non ero solo io ero sicura sicura e invece poi lo incontrai con un'altra lo incontrai ma cosa era successo era innanzitutto c'erano dei credo miei negativi della questione che arrivo a 99esima volta e poi bam non succede niente quindi c'era già quel credo in più avanti ho trasportato la questione del credo di dire tanto se io vedo un ragazzo sempre interessato a me succede che non succede succede che non succede succede che non mi chiede di uscire perché derivava da 15 anni prima capite la nostra realtà quello che vi sto cercando di dire è che la nostra realtà la tua realtà è composta da tuoi credo ora ci sono io li chiamo i credo sono come un iceberg no? ci sono quelle c'è la puntina visibile no? la puntina visibile e sono i credo di cui tu ti rendi conto ma poi sotto regà c'è un mondo un un mondo cioè quando faccio le consulenze la gente rimaneva cioè non ci saremmo arrivata non ci saremmo mai pensato perché c'è un mondo io ormai ho imparato a stanarli ho imparato a scendere a vedere che sotto alla puntina dell'iceberg c'è praticamente una montagna però quello che voglio dirvi è che non c'è un solo credo due credo spesso e volentieri quello che vedete è solo la punta dell'iceberg purtroppo sotto c'è un mondo che ci si arriva con la meditazione con lo studio con l'ascolto con la ponderazione con il metto sotto torchio l'universo e così via insomma capite? una volta che poi gli avete tolti gli avete individuati e tolti poi raga è come aver messo come si chiama l'acido muriatico nello scarico cioè si stura tutto cioè fine poi dopo ti dici cioè si toglie la diga e l'acqua finalmente scurre finché però non ci arrivate quindi per riassumere se vi succede queste cose se vi succede che ero convintissima ad esempio una persona una cliente mi ha scritto ero convintissima che di che sarei andata in quel negozio e avrei trovato quel prodotto e invece addirittura non solo sono andata l'ho trovato pure che è fuori produzione cioè ma io ero convinta cioè sono andata lì convinta che avrei acquista cioè non c'avevo un minimo dubbio ma sicuramente nel suo passato ci deve essere qualche credo qualche accaduto che ha formato qualcosa che è accaduto che ha formato uno più credo negativi che la portano a dire che pure quando sto pensando positivo ecco che succede ad esempio una cosa su cui ho lavorato stupida ma ormai è favolosa come funziona una cosa ho lavorato è ogni volta che vado sul mercato mi dico trovo sempre tutto quello anzi se c'è qualcosa che è finito trovo comunque un unico prodotto rimasto in attesa che lo acquisto io e voi non sapete tutte le volte che io vado e vedo che un prodotto è praticamente terminato ma poi cerco fra le cose e lo trovo che è rimasto uno magari mezzo nascosto mezzo infilato o proprio rimasto uno cioè sullo scaffale che tu dici fine ma questo è un credito su cui ho lavorato cioè su cui praticamente ho affermato per non mesi anni la questione che io quando ho verso il mercato tra tutto quello che mi serve e se il prodotto sembra che sembra sembra che è finito invece non è finito tanto che quando succede che vedo e dico no l'universo non è così cioè è da qualche parte qui e bam cioè capite però sono cose su cui io mi sono allenata parecchio mi sono allenata quindi quando vi succede che sto pensando negativo e poi succede in positivo è perché praticamente dentro di voi avete formato un credo che se più penso in negativo cioè ho letto persone che mi che mi hanno detto guarda cioè io in realtà più penso in negativo più mi accadono cose positive no non è che il negativo generale è positivo no è che tutti sei convinta quello è un credo voi dovete capire che voi si è cioè voi la vostra realtà è formata dai vostri credo quindi se io credo se io credo che se sto pensando negativo manifesto positivo quello è un credo e funziona così l'altro giorno ho letto un articolo di una tribù non mi ricordo dove in Sud America ora non mi ricordo dove che praticamente viene chiamata la tribù dei serpenti perché praticamente alleva i serpenti più velenosi al mondo non mi ricordo e addirittura uno dei re di iniziazione è bere il loro veleno ma a questi non gli succede niente cioè noi veniamo morte certo questo invece gli succede niente cioè nulla si fanno nulla con i serpenti più velenosi al mondo ma il credo può davvero plasmare non solo la vostra realtà ma il vostro corpo addirittura capite? perché il loro credo è uno solo cioè il serpente è innocuo punto la trattano come una divinità è innocua cioè capite? è quello punto io che non ho quel credo così sicuramente mi bevo una tazza devi un goccetto eh stecchita ma loro crescono maturano con questa convinzione che gli viene stillata fin da piccoli gli viene instillata cioè capite? con questa convinzione che gli hai stillata fin da piccoli gli viene instillata cioè come la convinzione che magari ti tirano su dicendo che sei bello 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 poi in realtà non sei manco per pitte però tu vieni su con questa convinzione so bello 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 bella 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 pure che oggettivamente non lo sai realmente però hai addosso le persone cioè c'è sempre comunque sia pretendenti perché tu sei un vinto tu sei convinto quella è la tua convinzione quella è il tuo credo il tuo credo riorganizza la tua realtà ok? spero di essermi spiegata per chi ha fatto questa domanda per tanti di voi che hanno fatto questa perché tanti di voi c'ero anch'io in mezzo c'ero anch'io in mezzo alla questione che mi dicevo perché avevo questi credo che quando derivando quando ero piccola che pure che facevo tutto bene venivo bollata come negativo quindi sono cresciuta col credo che fai fai bene pratica pratica bene lavora lavora bene ma tanto è sempre negativo mentre mi ero raccorta che se stavo nella vibrazione negativa manifestavo ecco perché non credere assolutamente se vi dicono non si può manifestare una vibrazione negativa no no se il mio credo è e io ho questo credo che manifesto io ho ad esempio il credo che manifesto anche in una vibrazione negativa ma no che manifesto l'assetto no no manifesto per positivo questo è il mio credo quindi il mio credo crea la mia realtà cioè ci credo fermamente 100% cioè anzi io spesso e volentieri come ho spiegato in un paio di video utilizzo quello stato negativo per trasformarlo in positivo e quindi in manifestazione però pure che sto in uno stato negativo io per tanti anni ho creduto che manifestavo lo stesso manifestavo manifestavo stesso quello che desideravo capite pure che sto voglia di no perché il mio credo era che pure che sto in uno stato negativo manifesto cioè il credo quando io vi dico credo è come dire il vostro nome voi non tentennate è 100% sicuro se tu dici come mi chiamo Simone mi chiamo Gloria mi chiamo Anna mi chiamo Marco quello è il mio credo credo cioè mi chiamo così in ciò tentennamenti 100% capite quando io vi dico credo sto dicendo questo non sto a dire credo ma ci credo però se succede se succede se l'universo no no questo quando io vi dico io ho un credo è 100% punto 100% cioè che potrebbe scendere Gesù chissà in persona di me no non credo no no io credo così poi di come te va cioè capite capite e spesso e volentieri sa che Dio dico quanto è vero che esiste Dio e Dio esiste succede questo e questo cioè capite che cosa faccio anche cioè mi dico questo quanto è vero che esiste Dio e Dio esiste io ottengo questo questo io manifesto questo questo e quando lo dico lo dico come se dicessi quanto è vero esiste Dio mi chiamo Giada cioè capite capite il mio credo quant'è bam preciso 100% e cosa ci si arriva con la disciplina con la disciplina non cioè non date a scorto ma ve l'ho detto in tutti i video a chi vi dice che sono 5 minuti di esercizio cioè no dovete arrivare a disciplinarvi la dieta mentale che vi insegno è la disciplina e poi manifestare la manifestare manifestare una volta che vi siete disciplinati manifestare ok ti do qua il video vi ringrazio per avermi seguito pollice in su iscrivetevi al canale e niente pace, amore e energia ciao